buonasera buonasera a tutti di nuovo ben trovati questa sera pensate facciamo l'ultima facciamo l'ultima lezione e finiremo questo capitolo di uomini e donne ok andiamo avanti senza fare nessun riassunto perché dobbiamo finire praticamente siamo chi ha il libro può seguire pagina 235 giù in basso e comincia con il paragrafo che si chiama al giorno d'oggi quali sono le forze che dividono uomini e donne abbiamo studiato in passato che la vera forza è che l'uomo e la donna si uniscano perché sanno che hanno una meta comune quella di portare di arrivare a dio e di portare la la forza di esce nel mondo intero e la conoscenza di dio nel mondo perciò essendo loro soci e creature di dio e soci in questa missione allora non c'è chi è più alto e chi è più basso semplicemente ci sono diversità di di mansioni come in ogni cosa nella vita come in casa come in ufficio come da prestutto ognuno ha la sua mansione e lui è tenuto a fare quella sua mansione e non bisogna scambiare il problema sorge quando i lavoratori vogliono fare l'uno il lavoro dell'altro e viceversa perciò si crea un attimo di confusione e a volte anche di di tensione e così via perciò ognuno è bravo per quello che lui è e deve fare quello che lui è destinato a fare l'uomo deve fare l'uomo la donna deve fare la donna perciò qua dice al giorno d'oggi quali sono le forze che dividono l'uomo e la donna e dice così armonizzare l'energia maschile e quella femminile nelle giuste proporzioni costituisce un'impresa notevole vuol dire noi dobbiamo portare armonia tra uomo e donna e non è una cosa facile viviamo in un'epoca in cui per molte persone il mondo spirituale è stato soppiantato da quello materiale perché diciamo che non è facile portare armonia tra le forze maschile e femminili perché in realtà se riuscisse a esserci questa coesione di ambo le forze sarebbe esplosivo in un punto positivo diciamo sarebbe un massimo del massimo che si possa usufruire della coesione l'uomo e la donna però viene le forze del male satan quello che sia e separa queste due forze per indebolire il mondo allora dice viviamo in un'epoca in cui per molte persone il mondo spirituale è stato soppiantato da quello materiale tutto il problema che cos'è è quello che si chiama in ebraico seder adifuyot ovvero che proprio così in italiano che a cosa diamo priorità nella vita alle cose più importanti alle cose meno importanti purtroppo noi siamo abituati spesso e volentieri a dare importanza alle alle priorità meno importanti e dimenticando quelle più importanti infatti qua dice che lo mondo spirituale viene soppiantato dal mondo materiale perché perché noi permettiamo perché noi diamo più importanza al mondo materiale e non al mondo spirituale quando l'ego e il potere hanno il sopravvento ego e potere il manierismo predomina sulla sostanza e la forma predomina sullo spirito vuol dire quando noi non abbiamo questo bilancio che è di dare più importanza allo spirito piuttosto che al corpo succede questo squilibrio così l'equilibrio vero e salutare fra uomo e donna viene distorto quando una persona non c'ha il valore del giusto del sbagliato del del primario secondario e così via tutto si capovolge e diventa prima le cose futili poi le cose importanti cosa succede questo ha un ritorno negativo anche sull'equilibrio tra uomo e donna infatti dice così perciò quando noi non diamo importanza allo spirito di conseguenza non dà importanza allo spirito proprio direttamente proporzionale cosa succede l'equilibrio vero e salutare e fra uomo e fra uomo e donna viene distorto quando non c'è priorità verso la spiritualità si viene a creare una separazione uno squilibrio tra l'uomo e la donna ma interessante qua non stiamo parlando per forza di marito e moglie stiamo parlando della forza dell'uomo e la forza della donna non marito e moglie ma se ci fate caso in realtà questo vale anche per marito e moglie nella loro vita nella loro vita quando non c'è spiritualità nella vita di coppia lì di solito si creano i problemi perché quando tu hai una meta in comune che è la spiritualità allora difficilmente ci può essere screzzo in famiglia e se c'è lo si sorpassa certo succede che anche persone ortodosse che hanno la stessa missione a volte hanno problemi familiari diciamo di no parliamo di norma ovviamente di norma quando c'è spiritualità la coppia è anche più sana le differenze perciò nel mondo adesso non nella coppia nel mondo che c'è bisogno della forza dell'uomo e della forza della donna che si combaciano che siano insieme cosa succede quando manca spiritualità questa unione si sfacela perché perché pensiamo alle cose secondarie e perciò cosa causa lo dice adesso le differenze esistenti tra i loro diversi tipi di energie invece di integrarsi in vista al scopo unitario vengono amplificate le differenze e contribuiscono a tenerli separati ovvero abbiamo spiegato tante volte questo vale per tutto quando l'uomo e la donna che ovviamente fisicamente sono totalmente opposti ma non solo fisicamente ma anche spiritualmente anche caratterialmente uomo e donna sono proprio due mondi completamente opposti però hanno una forza messi insieme a una forza esplosiva per il bene alla cosa succede quando viene a mancare questo equilibrio quando una persona non va secondo la strada della della priorità vera e cambia l'ordine delle priorità perciò preferisce cose secondarie alle primarie questo ha influenza appunto sul la società tra uomo e donna perciò cosa succede che le differenze che ci sono tra uomo e donna se sono uniti nessuno guarda la differenza non si nota perché sei unito stai andando verso la stessa strada se invece ti disunisci non sei d'accordo non vuoi usare non vuoi fare società tra uomo e donna per il bene del mondo cosa succede tutte le varie diversità che ci sono tra uomo e donna vengono a galla si amplificano anziché smussare gli angoli e cercare di far vedere che è di coesistere pacificamente perciò tutto questo contribuisce al male del mondo quando uomo e donna non riescono a a mettere le loro forze insieme non so se spiego il punto la donna e l'uomo hanno due forze fortissime che vanno messi insieme però a volte quando la priorità è su me stesso sul mio ego e quello che io ho bisogno anziché sulla spiritualità sulla divinità succede che c'è l'esplosione negativa non riesco a c'è un compagno di guerra che può venire ad aiutarmi per convincere la battaglia ma noi non andiamo d'accordo tra di noi perché io penso anziché penso a combattere la battaglia e vincerla penso ai comodi miei e poi lei di conseguenza pensa ai comodi suoi perciò non c'è non parliamo la stessa lingua non siamo attratti dalla stessa meta finale e quando non si è attratto dalla stessa meta finale ovviamente le strade si scindono quando gli aspetti materiali sono enfatizzati a scapito di quelli spirituali quando noi diamo maggiore importanza alla materia piuttosto che allo spirito le forze maschili e femminili iniziano a differire e le forze dell'aggressività maschile tendono a prendere sopravvento non soltanto che le forze dell'uomo non si scindono non è solo quello magari fosse solo quello peggio l'uomo che ha di carattere è più forte fisicamente fisicamente della donna cosa succede che lui visto che c'è questa scissione vuole prendere anche sopravvento vuole dominare sottomettere la forza della donna se si dà eccessivo valore al potere e al controllo esteriori a scapito del focolare domestico e della famiglia o alle tattiche aggressive negli affari a scapito della sensibilità e della prudenza si incoraggia un tipo di individuo o meglio le parti dell'individuo che trovano naturale e scontata questa forma di espressione vuol dire la seconda di prima quando noi diamo troppo importanza al ognuno c'è al suo ietzerara no c'è quello che vuole 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 il potere non interessa per forza la ricchezza vuole il potere c'è quello che dice non mi interessa il potere voglio la ricchezza ognuno tende a qualcosa no però quando una persona da eccessiva importanza o al potere o ai soldi o a quello che sia cose secondarie a scapito della propria famiglia in questo caso o a scapito dell'unione tra uomo e donna per vincere la battaglia cosa succede succede che succede che le parti dell'individuo che trovano naturale e scontata questa forma di espressione vuol dire che succede che la scissione va sempre più avanti senza quasi ad arrivare a un punto di ritrovo se non si cambia l'ottica il modo di vedere le cose si crea pertanto un ambiente in cui l'energia maschile domina ed è massimamente apprezzata vuol dire ah non siamo più compagni allora ci devo per forza sottomettere dominare inevitabilmente sia l'uomo che la donna soffrono a causa di questa distorsione di proprietà cioè quando l'uomo e la donna non riescono a mettersi insieme per il bene del mondo dice qua tutte e due tutte e due ne soffrono ovvio così come al colato contrario quando quando l'umanità si riesce a mettere insieme per andare avanti tutti ne godono idem vale anche per l'inverso quando non c'è pace e non si va avanti insieme tutti ne perdono no allora cosa succede tutti perdono è vero ma la donna ma è la donna che ne paga il prezzo la donna paga di più dell'uomo perché poiché le forze principali della donna stanno nel sublime e nella sensibilità la donna la sua forza non sta nella forza fisica sta nella forza interiore nella forza di animo nella sua spiritualità nella sua convinzione e donne c'ha tante forze ma la forza fisica non è parte di quella della forza della donna perciò cosa succede quando c'è questo scontro tra uomo e donna sì anche l'uomo ci rimette perché non ha l'appoggio della donna ma la donna dice purtroppo lei ci rimette di più è lei che paga di più le conseguenze perché perché lei è sensibile perché lei è sublime sublime vuol dire la donna non è una cosa spirituale pura c'è chi rigetta o sottovaluta questi punti di forza fraintendendoli nel senso della vulnerabilità perché devo essere uguale alla donna dove essere perché devo coesistere con la donna la donna è debole la donna è fragile lei vada per la sua strada io vado la mia no questa questa debolezza fisica della donna non è una cosa vulnerabile è più forte spiritualmente attenzione perciò dio da a ogni persona questo bilancio la donna è più forte spiritualmente l'uomo fisicamente e viceversa tale sovvertimento e l'abuso che ne consegue da parte degli uomini perciò quando l'uomo abusa di questa forza no ah io sono più forte della donna cosa succede è la ragione più convincente a favore del femminismo contemporaneo quando l'uomo continua a fare a giocare a fare l'uomo a fare l'uomo duro cosa succede che tutto il femminismo che c'è nel mondo tutte le la rabbia delle femministi delle donne eccetera viene a galla a causa dell'uomo a causa del cattivo comportamento dell'uomo perciò se l'uomo non tendesse a sottometter la donna o allontanarla o a screditarla la donna non si sente oppressa perciò non alza la voce perciò quando una persona in questo caso quando la donna alza la voce per farsi sentire che vuole i suoi diritti quando le vengono tolti i suoi diritti quando viene calpestata quando viene denigrata e così via benché il femminismo benché il femminismo giustamente domandi la cessazione della dominazione maschile femministe le femministe cosa vogliono vogliono vivere e lasciare vivere vogliono che vengano lasciate vivere in pace cioè quando le femministe fanno le loro rumore quello che è perché lo fanno semplicemente perché vogliono che gli uomini smettano di sottometterle vogliono eguaglianza dei diritti per le donne questo è di cruciale importanza arrivare alle radici di tale distorsione bisogna capire sempre il problema ma va esaminato all'origine non bisogna guardare l'esteriore per esempio tante volte mi ha spiegato questo concetto quando una persona urla ti offende urla ti dice brutte cose l'umano cosa fa di natura tende a va in difesa cosa fa risponde invece la psicologia ci insegna quando tuo figlio tuo marito tua moglie chi sia ti urla e ti dice anche cose che ti feriscono tu devi rispondere perché 9.9 su 10 quelle cose che sta dicendo quelle offese che ti sta mandando sono soltanto una scusa per scaricare i propri nervi per togliere il proprio dolore interiore quando una persona è molte volte siamo frustrati o quant'altro allora cosa succede 9.9 su 10 chi urla e dice cose brutte offensive non lo fa in verità per fare per offendere o per ferire lo fa semplicemente per uno sfogo se no esplode non stiamo dicendo che sia giusto sto raccontando un dato un fatto perciò la persona che riceve le urla le offese deve capire quello che sta dicendo di andare all'origine del problema e non all'estero del problema all'esteriore che cos'è mi sta urlando mi sta offendendo ok abbiamo un problema ma il problema non è quello che lei mi ha detto il problema è il perché lei sta urlando cosa le fa causare di urlare allora dobbiamo capire mi sentite vero sì sì sentire perché mi stanno telefonando aspettiamo un secondo che mettono giù ecco abbiate pazienza ecco perciò quando una persona urla sbraita eccetera devo cercare di capire essere intelligenti a capire perché cosa c'è che lo disturba vado in profondità e cercare di risolvere il problema alla radice e non sta lì a discutere a rispondere non si finisce più perché cosa succede quando tu rispondi alimenti il fuoco che è già brutto e in più non risolvi neanche il problema anzi ti allontani ancora di più della persona non riesci più a parlare perciò qua dice idea tra uomo e donna la donna quando quando le femministe chiedono i loro valori eccetera eccetera cosa succede bisogna arrivare alla radice di capire perché loro sono infastidite vale a dire il nostro obiettivo nella vita nel caso dell'uomo come della donna non deve essere la soddisfazione del nostro ego o dei nostri bisogni bensì il servizio di dio quando ognuno tira l'acqua al proprio mulino e pensa a a se stesso al suo ego essere appagato lui cosa succede se ognuno vuole essere appagato ognuno vuole avere ragione non si finisce più come si può avere parità tra i sessi parità tra le persone quando ognuno mette da parte un pochettino se stesso e mette in mezzo dio allora sì quando tutti siamo sottomessi sottomessi come se fosse una parola un po brusca comunque ci siamo capiti non con tutti vogliamo essere inferiori a dio e seguire la sua parola allora noi focalizziamo su lui e non sul nostro ego e allora allora sì quando tu focalizzi su dio che sai che è superiore sia a te che all'uomo allora sì che riesci veramente a connetterti con la donna e la sua forza emotrice interiore perché perché non pensi più a te stesso ti metti un pochettino da parte ti abbassi un pochettino Dio alla fin fine è sempre la soluzione di tutti i problemi del mondo la vera liberazione delle donne non passa attraverso l'uguaglianza definita secondo parametri meschili le donne vogliono avere l'uguaglianza con gli uomini perché vuole fare vedere che hanno valore non è non è questo il modo non è che se una donna comincia a comportarsi come un uomo o vuole responsabilità dell'uomo allora riesce a dimostrare la sua valore così questo è il modo sbagliato di far vedere la donna ha un valore e deve far vedere il suo valore non chi vuole prendere il valore di qualcun altro e fare il suo piedistallo e questo il problema perciò ripetiamo la vera liberazione delle donne non passa attraverso l'uguaglianza definita secondo parametri maschili significa piuttosto liberare gli aspetti femminili divini della personalità della donna la donna deve fare piedistallo sulla sua divinità su quello che lei veramente ha dentro non sono qualcos'altro che vuole dimostrare che io possa essere una donna d'affari e allora dimostra quello che tu sei tira fuori quello che dio ti ha donato a te o donna usandoli a beneficio di tutto il genere umano le donne possono veramente tanto contribuire al genere umano non so se è vero o no mi viene in mente avevamo tre padri ma quattro madri c'era bisogno più di donne che di uomini minutemente adesso magari è una stupidata ma ha senso un po di senso ce l'ha le donne devono battersi per i loro diritti perché il mondo lo esige al fine di del proprio benessere cosmico le donne devono battere però diritti però facendo emergere il loro valore interiore non che voglio essere uguale all'uomo molte donne però come del resto molti uomini si sono sottomesse di fronte alla crescita dei valori materialistici perciò le donne anziché usare la loro forza interiore cosa fanno preferiscono fare carriera materiale mettono più diciamo importanza alle faccende materiali a spese di quelle materiali ovviamente quando ti butti su una cosa l'altra parte che viene sempre a pagare il movimento delle donne ha ottenuto molti frutti tangibili e tuttavia ha soffocato il suo potenziale perché non si è diretto alla radice del problema tornando al discorso delle femministi o delle femmine della femmina in sé la femmina singolare perché sì hanno avuto tanti diritti ok bellissimo però non sono arrivati non sono arrivati alla radice del problema perché perché non interessa il problema interessa far vedere che hanno un valore però usando le strumenti sbagliati quindi la lotta femminista per l'uguaglianza è l'affermazione di sé in termini maschili finisce con alimentare la lotta di potere e fare gli uomini alle donne quando la donna vuole prendere il suo affermare la lotta che fanno le femministe per la loro uguaglianza cosa succede succede che fare un effetto contrario che l'uomo non vuole farsi sottomettere dalla donna allora succede questo questa battaglia tra le donne e gli uomini ma non interessa che cosa la forza di uno e la forza dell'altro che uniti insieme è una cosa grandiosa grandiosa però quando loro non vanno d'accordo non riusciamo ad avere la miscela della forza di uomo e donna invece di impiegare i loro tratti distintivi per raggiungere un obiettivo unitario spesso essi lottano semplicemente per la supremazia appunto anziché mettersi insieme si fanno la guerra dando luogo a un profondo risentimento l'unico sbocco salutare di questa situazione di stallo sta nel rendirsi sta nel reinserire i valori spirituali nelle nostre vite quando la cosa primaria nella mia giornata nella mia vita è la mia spiritualità e in secondo luogo la mia materialità allora sì che tutti possiamo andare d'accordo uomo e donna e unire le forze né riscoprire l'umiltà imparando a riconoscere e ad apprezzare le personalità innate degli uomini e delle donne ognuno deve riconoscere la grandezza e la forza dell'altro considerandoli alla stregua delle due metà complementari è una mela tagliata in due è un'anima tagliata in due è inutile che cerchiamo chi è superiore e chi è inferiore è la stessa anima che ognuno ha un compito diverso e di conseguenza si complementano nella medesima unità al servizio di un dio unico ciò non significa attenzione che la donna debba abolire la carriera e rinunciare all'opportunità offerte di vita presente piuttosto dobbiamo riorientare le nostre priorità la Torah non chiede alla donna non stai a casa a cucinare fai bambino la donna può avere benissimo una carriera può avere benissimo un lavoro non è però deve essere bisogna fare sempre il calcolo delle priorità ho un lavoro benissimo ma ho anche una vita ho una famiglia ho la mia spiritualità ecco non devo far sì che il mio lavoro danneggi tutte le cose che sono le mie priorità invece di fare del lavoro invece di fare del lavoro il centro dell'esistenza invece di considerare il denaro come la ricompensa più ambita dobbiamo considerarci per ciò che realmente siamo perciò non sempre guardare la materia ma guardare cosa noi realmente siamo un uomo o una donna creati da Dio in condizioni di uguaglianza perché davanti a Dio siamo uguali davanti a Dio non c'è differenza tra uomo e donna siamo uguali tutto questo al fine di impiegare le risorse specifiche di ciascuno in funzione del miglioramento del mondo ognuno deve dare il suo per migliorare il mondo per alcuni ciò può significare dedicarsi ad una carriera che permette di accrescere il tenore di vita della famiglia piuttosto che comprometterlo per l'uomo può essere un impegno alla carriera per altri può significare dedicare meno tempo al lavoro per dedicarsi al proprio sviluppo spirituale all'assistenza sociale o a sforzi di carattere umanitario sono tante donne qua per esempio a Milano abbiamo parlato di diverse volte della cucina sociale Betheavon che stanno facendo un lavoro fantastico che mandano ogni giorno cibo a chi ha bisogno a persone malate a persone sole a chi si trova in ospedale e così via e lì lavorano nella cucina sociale visto che è una cucina sociale la gente non paga allora va avanti per la maggiore di volontariato ci sono donne ogni giorno a turni donne di Milano che vanno lì in cucina a lavorare a cucinare a impacchettare gratuitamente e sono tante di loro sono anche donne grazie a Dio benestanti eppure vai lì lei vede con la cuffia con il grembiule con i guanti non interessa quanto la loro famiglia è benestante loro dicono questa è una cosa giusta da fare di fare beneficenza di fare volontariato e questo è quello che dici qua assistenza sociale e a sforzi di carattere umanitario ognuno di noi deve aiutare come può altri ancora troveranno maggiore appagamento e soddisfazione nel provvedere personalmente all'educazione dei propri figli a casa una tendenza attualmente in aumento magari non voglio aiutare in cucina sociale preferisco il mio tempo dedicarlo ai miei figli benissimo benvenga perciò ognuno deve dedicarsi o fuori o dentro a questo tipo di di aiuto a mano a mano che l'orientamento verso la spiritualità cresce più le persone ormai c'è questa scia grandiosa e sempre di più le persone si avvicinano alla Torah alle mitzvot studiano in Torah sempre sempre di più man mano che succede questo che la gente diventa più spirituale il nostro apprezzamento delle responsabilità inerenti al consolidamento della vita familiare continuerà ugualmente a crescere perciò più una persona è spirituale più comincia a dare rispetto alla famiglia e all'uguaglianza tra uomo e donna dopo tutto formare una famiglia trasformando il mondo materiale dopo tutto formare una famiglia trasformando il mondo materiale in una dimora a misura di Dio e lo scopo per cui siamo stati creati vi ricordate che ho parlato diverse volte tutto il motivo per la quale Ascema ha creato il mondo Dio ha creato infiniti mondi spirituali e poi per ultimo ha creato il nostro mondo che è un mondo materiale ok e Dio ha detto proprio in questo mondo materiale quello che è il più lontano dalla verità divina quello dove noi non vediamo divinità gli altri mondi si vede Dio si vede spiritualità si respira spiritualità nel nostro mondo materiale al contrario Dio non si vede proprio non lo sentiamo non lo percepiamo e lui si nasconde pure perciò la natura di questo mondo è di non sentire divinità non di sentire ma la natura è di non sentire allora qua dice Dio dice un bel giorno io voglio che la mia casa sia proprio lì non dove in modo automatico sentono e percepiscono la mia presenza non mi interessa quello a me interessa essere percepito lì dove la natura è di non percepirmi no? lì dove noi non vediamo Dio Dio vuole essere rivelato se no dove sta il gioco perciò Dio ha avuto questo desiderio che di creare di avere una casa proprio qui facendo in modo che le persone lo riconoscano e lo esaltino perciò creando una famiglia con tutti i disagi e difficoltà del caso materiali e spirituali questo è uno delle fondamenti di come fare la casa di Dio in questo mondo fare casa di Dio in questo mondo vuol dire non vuol dire mi chiudo in un centro studi studi e prego tutto il giorno sì finché sei ragazzo lo puoi fare perché devi studiare devi imparare ok ma poi quando arriva l'età di sposarti come in università finché uno va studia liceo in università studia si prepara per il mondo però a un certo punto devi uscire dall'università devi andare nel mondo a praticare quello che hai imparato idem nel mondo della Torah finché sei giovane bisogna studiare pregare tutto il giorno poi dopo a un certo punto bisogna fare famiglia sposarsi avere un impiego un lavoro che possa anche essere insegnare Torah non è che posso essere business ma creare una famiglia vuol dire creare la casa di Dio perché perché fa parte delle difficoltà del mondo perciò uno non deve dire voglio scappare dalla difficoltà del mondo non voglio sposarmi tutta la vita voglio essere soltanto per Dio no non esiste è al contrario proprio contrario Dio vuole che tu ti sposi anche se studierai meno giorno Torah di quando eri ragazzo ma è questo quello che Dio vuole che tu mandi avanti il mondo non che ti rinchiudi in una caverna e lasci il mondo fuori Dio vuole che noi prendiamo il mondo e lo eleviamo lo plasmiamo cioè se tu ti allontani dal mondo materiale non lo stai influenzando al contrario lo stai dimenticando sia che ci si impegni in carriera fuori casa sia che si faccia della casa la propria carriera sia che si uniscano le due cose il il riesame delle priorità della vita e dell'importanza vitale in particolare alla luce del ruolo di donne e di uomini sottoposti alla volontà di Dio perciò qualsiasi tipo di lavoro tu decidi di fare in casa o fuori o quello che sia deve essere sempre la priorità quella che l'uomo il ruolo dell'uomo e della donna devono sottoporsi a Dio ed è l'unico modo per fare questa cosa in un modo pacifico le donne essendo più sensibili all'energia spirituale devono promuovere una nuova coscienza la donna è più spirituale è più spiccata è più elevata allora cosa deve fare devono qua dice promuovere una nuova coscienza e spiega questa sarebbe la rivoluzione femminista definitiva questo è il vero tipo che le donne devono fare una rivoluzione fare ovvero che cosa fare crollare le barriere che separano lo spirito dalla materia le femministe cos'è che devono fare anziché fare quello che fanno per i loro diritti dovrebbero mettere tutta la loro forza e enfasi per fare crollare le barriere che separano lo spirito dalla materia amalgamare non avere barriere via la materia deve diventare spirito quando io curo la mia spiritualità anche la mia materia si eleva indirizzando la ribellione verso una condizione in cui ci sarà vera armonia fra le energie maschili e quelle femminili e questo è il punto quando tu butti giù le barriere perciò tutto diventa spirituale cosa succede? anche le barriere di differenza tra uomo e donna cascono perché non c'è più importanza non è più importante la donna e l'uomo in sé per sé l'uomo e la donna sono sì importanti ma per in visione della divinità di Dio del lavoro di Dio capite? cioè togliamo l'ego l'uomo importante sì la donna importante ancora di più ma non per me siamo importanti per il lavoro che possiamo svolgere per Dio perché funzioni gli uomini e le donne devono rendersi conto dei rispettivi ruoli nessuno deve pestare i piedi dell'altro nessuno deve entrare a invadere il campo dell'altro l'uomo deve fare le sue cose la donna le sue cose i suoi ruoli sforzandosi di completarsi a vicenda nella lotta comune per il miglioramento della vita siamo soci per rettificare l'abuso della supremazia maschile che abbiamo spiegato che l'uomo a volte il maschio abusa della sua forza sulla donna gli uomini devono orientare il loro carattere dominante verso il bene l'uomo di natura è dominante ok allora questo carattere può essere una cosa molto negativa se lo fai verso un'altra persona un altro umano ma può essere molto positiva se tu cosa fai se tu questo carattere dominante lo usi per fare del bene domini il tuo male domini il tuo domini le cose negative no allora è vero dominare è brutto se lo fai verso qualcun altro ma se lo usi per il bene ogni cosa negativa può diventare positiva gli uomini devono orientare il loro carattere dominante verso il bene usare la loro forza al fine di proteggere e preservare il carattere femminile bella questa anziché usare la forza per dominare la donna no usa la tua forza per preservare la donna per difendere la donna per la grande valore che lei ha come persona e come umano spirituale usare al fine di proteggere e preservare il carattere femminile aiutando le donne a realizzare il loro vero potenziale nel rivelare il creatore cioè se la donna di per sé è così spiccata spiritualmente tu uomo difendila aiutala a poter dare ancora di più alla società non che ci vai contro al contrario usala mi viene in mente mi viene in mente lo dico quando c'era il santuario c'è scritto che se i gentili le nazioni nel mondo avessero capito l'importanza che aveva il santuario non solo per gli ebrei ma per tutto il mondo attenzione il santuario era fonte di benedizione per tutti gli umani del mondo grazie al santuario veniva la luce di Hashem nel mondo e tutti ne godevano ebrei e non allora i maestri dicono se coloro che hanno distrutto il santuario hanno fatto guerra agli ebrei se solo sapessero quanta benedizione ricevono dal santuario non soltanto che non avrebbero combattuto e distrutto il santuario al contrario avrebbero messo un esercito intorno al santuario per difenderlo perché loro tutti usufriamo anche i gentili idem qua se noi capissimo quanto è il valore della donna e la sua forza interiore noi uomini difenderemmo da mattina a sera le donne anziché schiacciarle perché vogliamo che loro emanino questa loro luce che hanno interiormente perché noi staremo lì a difendere aiutarle perché loro portano bene al mondo mi è piaciuto questo paragone bello le donne siete il nostro santuario e nei santuari nessuno urlava però attenzione donne nel santuario nessuno mica tutte le donne urlano ma infatti io non urlo ma infatti io parlo solo con quelle che urlano le donne urlano anche gli uomini urlano ma siamo d'accordo siamo d'accordo ma infatti ognuno ha il suo lavoro no perché tra l'altro urlare arrabbiarsi è molto faticoso richiede molta energia ecco quelle che donne sono forti perché lo fanno sovente ma non lei io parlo delle altre donne ma io penso che anche le altre donne non è vero ma sì tutto il mondo è il paese dai perciò dicevamo dicevamo usare la forza al fine di proteggere e preservare il carattere femminile aiutando le donne a realizzare il loro vero potenziale cosa? nel rivelare il creatore di cui il mondo ha oggi disperatamente bisogno la donna riesce a portare più Dio nella terra? allora aiutala anziché combatterla proteggila dalle sicurezza perché lei fa un buon lavoro anche per te la donna porta Dio in terra più dell'uomo si deve fare della battaglia dei sessi un elemento catalizzatore allo scopo di scandagliare gli aspetti più intimi della persona dobbiamo liberarci della falsificazione che ha portato alla confusione dei ruoli di uomo e donna tutto questo pasticcio che si è creato negli anni è sempre va più forte dell'uomo donna queste cose qua dobbiamo liberarci di questa falsità bisogna combattere per tutto quello che oggi purtroppo c'è considerando le due energie divine uniche e separate e arrivare a comprendere che in che modo l'uomo e la donna debbano realizzarsi non dimenticando che sono due metà della medesima anima e che si completano reciprocamente questo dice tutto qua dice tutto facciamoci pertanto questa domanda sono fedele alla mia natura o la contraddico per avere successo nel mondo materiale io voglio voglio avere successo nel mondo materiale voglio avere carriera soldi potere quello che sia ognuno quello che lui cerca alla domanda che ogni uomo e donna si deve chiedere è questa altra io sono fedele alla mia missione la sto veramente inseguendo la mia missione per la quale Dio mi ha dato le forze per arrivare a questa missione ovvero portare il divino in terra o sto tradendo la mia missione perché perché preferisco potere soldi e così via di nuovo non vuol dire che non devi avere un lavoro e non devi essere ricco ma non devi dimenticare la tua missione primaria perché noi a volte facciamo uno a scapito dell'altro vogliamo la carriera a scapito del del mio responsabilità verso Dio e questo non va bene la Torah è giusta la Torah è met non è non ha estremismi la Torah non potrà mai dirti no no non vivere in questo mondo no no non lavorare non fare soldi tutto è permesso la Torah ma il modo come lo fai è importante non calpestare qualcos'altro per arrivare a quello che tu desideri specialmente c'è che qualcos'altro è la priorità della vita impariamo impariamo che cosa significa essere uomo o donna e che cosa sono le energie maschili e quelle femminili impariamo a vivere all'altezza del nostro potenziale bella questa impariamo a vivere all'altezza del nostro potenziale mai scendere del potenziale solo salire perché se tu scendi vuol dire che non stai usufruendo gli utensili che Dio ti ha regalato non li stai sprecando quante volte abbiamo detto queste frasi ai nostri figli tu sei intelligente non stai usando la tua intelligenza qualcuno lo dice anche a noi anche noi non stiamo usufruendo al 100% delle nostre potenzialità ad armonizzare queste energie per vivere una vita produttiva e significativa una vita in sintonia con Dio tutte queste cose che diciamo ti ha regalato per arrivare a avere sintonia di vivere in un modo tranquillo tra noi e Dio in conclusione impariamo ad apprezzare e a rispettare la nostra controparte maschile o femminile l'uomo deve apprezzare e rispettare la donna e la donna deve apprezzare e rispettare l'uomo nonostante i difetti di uno e dell'altro le mancanze bisogna mettere da parte tutte le cose negative concentrarsi soltanto su quello che è positivo a l'uomo o la donna questo è l'unico modo che possiamo usufruire uno della forza dell'altro e vivere in simbiosi semplice probabilmente dopo tanti anni di supremazia maschile siamo alla soglia di una nuova epoca femminile stiamo assistendo a un ritorno ai valori più alti che siamo resi ci siamo resi conto che il materialismo non ci può rendere felici e aggiungerei il materialismo da solo non ci può rendere felici solo il materialismo non ci può rendere felici e che una vita esclusivamente materialistica e una significativa sono l'una all'opposto dell'altra se tu hai una vita soltanto materialistica stai sicuro che non avrai una vita significativa se tu guardi soltanto la materia invece una persona può avere benissimo una vita significativa con valori e condurre anche una vita materialistica ma non solo uno o solo l'altro bisogna amalgamare entrambe le forze le entità abbiamo assistito a una rinascita dell'energia femminile della forza del sereno è giunto il momento che le donne raggiungano una vera preeminenza e che il potere discreto dell'energia femminile alimenti la forza esplicita dell'energia maschile che la forza femminile alimenti la forza del maschio perciò la donna rafforza l'uomo abbiamo già dimostrato che possiamo usare la nostra forza per liberarci dei demoni intorno a noi impariamo ora a coltivare l'energia divina che sta dentro di noi ognuno di noi è un piccolo dio a divinità deve semplicemente coltivare questa divinità che sta dentro di noi e come la coltivi parlando con la tua divinità avere uno scambio avere un dialogo un rapporto col tuo divino non che lo metti da parte ti dimentichi fino a Kipur ogni giorno dobbiamo avere essere in contatto con la nostra divinità per poter coltivare la sua forza finiamo il capitolo con il solito aneddoto cioè no non è un aneddoto ma è una storia vera con il Rebbe oh stasera in questo istante è già sera sì in questo istante siamo già nell'11 di Nissan che è il compleanno del Rebbe ieri sera l'abbiamo festeggiato in anticipo per comodità ma è proprio stasera e domani il 120esimo compleanno del Rebbe che possa veramente la luce di questo tzaddik illuminare tutti noi a percepire cos'è veramente la verità del mondo perché il tzaddik sa cos'è la verità e la vive e il tzaddik ha la forza di emanare la forza di fede a tutte le persone che lo seguono perché bisogna seguire un tzaddik perché il tzaddik vive di fede e lui quando vive di fede a sua volta riesce a rafforzare la fede dei suoi discepoli per questo è importantissimo avere un Rebbe avere qualcuno da seguire perché lui è puramente soltanto con Dio riesce a darti quello che tu da solo non riesci ad arrivare riesci a come si dice le anic le anic come si dice quando dai da mangiare dare dare no dare to feed come si dice to feed nutrire nutrire grazie grazie le anic to feed nutrire allora il tzaddik riesce a nutrire noi comuni mortali di quella speciale fede che abbiamo bisogno perciò connettersi con un tzaddik è semplicemente il modo di a sua volta lui ci riesce a aiutarci a connetterci con Dio la scala è questa noi ci connettiamo col tzaddik perché lui è carne e ossa perché lui parla perché noi lo vediamo ci connettiamo con il tzaddik il tzaddik a sua volta ci aiuta a connetterci con Dio perciò il lavoro del tzaddik è quello di fare da tre d'union di unificare di unire l'umano a Dio come faceva Abramo Isacco Giacobbe Mosè tutti i vari tzaddik delle generazioni una coppia con problemi di comunicazione si recò a fare visita a Rebbe non si capivano non riuscivano a comunicare marito e moglie la donna asseriva che il marito era troppo concentrato sul lavoro e che quando tornava finalmente il tempo di parlarle non faceva che criticarla o darle degli ordini tutto il giorno era via a lavorare col poco di tempo che era a casa la criticava le dava degli ordini il marito invece sosteneva che la moglie non si dimostrava non gli dimostrava rispetto e che non prestava attenzione a nessuno dei suoi suggerimenti dice no non è vero io arrivo a casa lei non mi dà rispetto mi ascolta non fa quello che dico chiese il Rebbe perché pensa che sua moglie la debba ascoltare in base a che cosa perché una moglie deve ascoltare no chiederebbe e risponde il marito perché una moglie deve ascoltare il marito e Rebbe dice come mai una moglie dovrebbe ascoltare il marito e rispose il marito perché il marito è il padrone di casa no la prima cosa che lei in quanto uomo deve seguire disse il Rebbe è la regola seconda la quale un marito deve onorare la moglie più di se stesso come si è scritto in Talmud così la moglie virtuosa avrà un marito che merita il suo rispetto e il suo amore perché se tu rispetti tua moglie se tu l'ascolti e le fai vedere il tuo amore allora sì che meriti che lei ti dia indietro rispetto amore quello che tu vuoi ricevere devi darlo prima no se il marito non addempia il suo ruolo sta alla moglie e farglielo rispettosamente notare perciò tu che arrivi a casa già tutto il giorno ci sei e quando arrivi dici alla moglie fai questo a quest'altro e la critichi sicuramente il modo più sbagliato di avere amore partecipazione e collegamento comincia tu a dare a lei quello che si merita e vedrai che lei non mancherà di darti indietro quello che tu meriti e quello che ti aspetta ti aspetta benissimo parola ha scena abbiamo finito anche questo capitolo parola a voi volevo solo dire che grande errebbe com'era avanti wow anni luce anni luce mamma mia anni luce era un po' come mi viene in mente a dire come Giuseppe i fratelli lui era quello che sembrava quello più lontano invece era quello che era più avanti invece i fratelli che sembravano quelli più ortodossi invece erano quelli che erano più piccoli erano più mentalmente chiusi oserei dire comunque si avrebbe avuto proprio una genialità una percezione ma poi un rispetto per la donna enorme non ne parliamo si 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 assolutamente chi comincia qua c'è un microfono acceso sottofondo un po' fastidioso dottor Messina dica lei cominci lei dai ma mentre parlava mi venivano in mente due cose l'ultima di questo lungo discorso che abbiamo fatto stasera è quella relativa del Rebbe e mi viene in mente il quattordicesimo capitolo del Tania quando dice è possibile che scenda l'anima di un Tzaddik e ti dia la capacità di migliorarti diciamo così e la stessa cosa succede con il Rebbe cioè tu appoggiandoti alla spiritualità del Rebbe acquisisci diciamo così una cilindrata superiore se si può fare un paragone così attingi quindi sei in grado di elevarti maggiormente proprio perché hai quest'anima dello Tzaddik che ti fa da supermotore diciamo così la seconda mi veniva in mente l'episodio del Rebbe precedente del Fredrik Rebbe quando venne minacciato dalla pistola che disse questo oggetto fa paura solo che ha un mondo perché terreno io che ne ho due non ho nessuna paura ecco rapportando questo col discorso di questa sera se uno ha solo il mondo maschile ovvero solo il mondo femminile capisce poco se uno riesce a penetrare i due mondi allora sì che c'è una Yechidah con Hashem perché come dire ha tutte le due parti dell'anima che Kadosh Baruch ha previsto prima di dividere le in due di riunirla insomma ecco quindi c'è un po' un paragone così simbolico diciamo insomma che però ci fa capire che dobbiamo conoscere i due mondi ecco nei limiti possibili per dire la giusta il Re precedente disse in quell'occasione io non ho paura perché c'ho un Dio e due mondi invece tu che hai due dei e un mondo allora tu puoi avere paura perché chi ha più di un Dio non ha fiducia in un Dio allora io ho un Dio che mi protegge e ho questo mondo e l'altro mondo tu invece hai un mondo ma hai tante idee hai tante ideologie era questo il messaggio siccome così e qui i due mondi diciamo così sono quelli dell'uomo e quelli della donna facendo un paragone così analogico insomma questo è noto in mente grazie grazie che abbiamo ancora qualcuno vuole parlare chiedere dire abbiamo Raffaele Negri penso che è la prima volta che sia in diretta se non sbaglio no comunque un saluto al signor Raffaele Davide vuoi dire qualcosa sì appunto possiamo capire comunque che è sempre un lavoro continuo perché non è semplice non siamo tutti il Rebbe cioè abbiamo i nostri difetti abbiamo anche dei momenti di tensione perché è vero adesso siamo tutti qui seduti tutti rilassati tutti che ascoltiamo le parole del Rebbe delle parole di Torah e ci rapacifichiamo almeno io mi rapacifico col mondo però durante la giornata bisogna tirare fuori questa anche queste potenzialità che abbiamo e comunque anche questo lavoro insieme alla propria moglie è un lavoro che ci porta a destrarre delle scintille di Hassidut della materialità perché se invece di arrabbiarci usiamo la stessa energia dell'arrabbiarsi del nervoso del nervosismo che comunque anche Elisheva prima diceva ci vuole molta energia per gridare sì però se noi incallandiamo questa energia per poter fare un lavoro di per poter fare un lavoro di di comprensione e di crescita della coppia allora sicuramente estraiamo della delle scintille di divinità della materialità perché comunque noi siamo materia anche se abbiamo una parte di divinità sì abbiamo la sitrara però abbiamo anche nel cervello l'anima che comunque è divina quindi invece di usare la materialità usiamo quella e anche da questo questo colloquio possiamo possiamo trarre trarre della delle scintille di Hassidut e comunque vorrei leggere un messaggio che mi scrive il signor Raffaele dice che non ha risposto adesso che l'ho chiamato l'ho salutato dice non posso rispondere perché sono sui mezzi e allora ha spento audio e microfono audio e video e video sì perché è sui mezzi vuol dire che questo signore qua è sui mezzi e sta ascoltando la nostra reazione perciò tanto di cappello con la cavode al signor Raffaele ok chi vuole ancora dire o chiedere c'era giusto un piccolo aneddoto che volevo dire giustamente sul gridare l'uno o gridare l'altro non ha importanza credo che ho parlato con un rabbino a Ginevra da qualche parte che mi disse una volta quando io mi devo far ascoltare dalla gente abbasso la voce perché quando abbasso la voce la gente deve tendere l'orecchio per capirmi se io grido la gente si sente quasi credita quindi si ritrae non ascolta invece più piano parlare e più attrae l'attenzione della gente e ti capisco è vero è vero le parole dei saggi vengono ascoltate con tranquillità e vengono emanate quando sei quando sei tranquillo è giustissimo questo grazie grazie vittorio vittorio sì sicuramente la condivisione all'interno della coppia di una spiritualità comune condivide la cosa più importante il consiglio mio è non dare troppo risalto all'aspetto fisico per esempio alla bellezza perché la bellezza la puoi perdere o per un incidente o una malattia e se uno fa troppo affidamento sul fatto di dire mia moglie o mio marito sono così belli fisicamente quello si può anche perdere e se fai troppo affidamento e non hai la spiritualità può crollare tutto questa è un po' fantastico fantastico invece se una persona è una buona persona una brava persona anche se un giorno perde la sua bellezza perché alla fine tutti si invecchia e tutti non si rimane nessuno rimane quello che è e allora cosa succede rimane l'amore vero quello che è una persona vale giustissimo giustissimo ma al di là della vecchiaia può succedere anche sì sì da giovane e uno perde a entrambi una bellezza che se fosse stato la cosa principale poi mette in crisi tutto dice la signora Elena Esther Rifka dice che bello sono molto d'accordo con con tutto quello che si sta che tu hai appena detto e che stiamo dicendo grazie prima di andare avanti volevo ricordare allora questa settimana vi ricordate oltre a stasera tutte le altre lezioni sono anticipate di un giorno ovvero la lezione del mercoledì sarà domani alle 18 e la diretta del giovedì sarà mercoledì alle 21 mettendo tutto anticipato stesse ore ma anticipato di un giorno ok qualcun altro vuole dire boh allora provo io eh prego prego shalom allora prima di tutto volevo dire a Roberto che eravamo alla lezione di Rav Shekevitz insieme io ero lì di presenza al tempio a Macom e tu eri online e non sono riuscito a salutarti poi alla fine bene ti saluto adesso allora sappiamo tutti che le donne come dice Ravnichi hanno una marcia in più è vero sia spirituale e non solo quando abbiamo fatto volevo solo dire queste condividere con voi queste cose qua che mentre ascoltavo Ravnichi mi si sono accese delle lampadine la donna è il nostro santuario è vero Dio ha fatto Adamo ed Eva perché? perché ha fatto Adamo ed Eva? sicuramente per procreare per portare tanta popolazione nel mondo ma ci sono due punti che mi sono venuti in mente perché quando noi siamo usciti dalla che abbiamo chiuso Shabbat al Tempio a Macom ci siamo messi in macchina i miei bambini hanno detto papà lo sai che Ravnichi ha detto che se noi conoscessimo il potere dei salmi li diremmo tutti i giorni nata tutto il giorno ok l'ha detto tutto il giorno tutto il giorno questa cosa mi ha fatto riflettere perché se noi sapessimo realmente che l'unione tra uomo e donna può tenere lontano lo è una benedizione che a Shen ci manda ma però non l'abbiamo ancora capita perché litighiamo giorno e notte gridiamo urliamo se noi sapessimo che l'unione tra uomo e donna ha lo stesso potere di dire i salmi tutto il giorno ci sarebbe più amore nel mondo condivido ogni parola una cosa mi è venuta in mente interessantissima la prima salita della Parajah a Karevot parla di Aron che offrirà il suo toro come sacrificio si parla praticamente del Kohengadol che offre il toro per espirare il peccato per se stesso e per la sua famiglia il rebbe Enrico Tessichot volume 32 pagina 110 e 111 dice affinché i riti del Kipur siano validi il sommo sacerdote deve essere sposato e ritornare direttamente a casa da sua moglie dopo aver completato i riti del giorno lo scopo di raggiungere alti livelli di consapevolezza del divino nel Kodesh a Kodashim è solo quello di applicare questa ispirazione nella vita di tutti i giorni le donne personificano la nostra spinta a far diventare il mondo la dimora di Hashem e poi va avanti spaziale come dice glomo si vuol dire portare tutta l'energia e l'elevazione spirituale appena assorbita nel santuario una volta fatto il lavoro che il sommo sacerdote faceva e usciva questa energia che aveva non doveva andare a essere sprecata doveva lui andare direttamente a casa e addirittura mangiare che tutta quella elevazione spirituale venga nella materia per elevare la materia e dove è a casa a casa dove c'è la musica lo aspetta assolutamente assolutamente grazie Davide grazie